Mariuana era nascosto in una villa del litorale tirrenico. All'alba di oggi i carabinieri di Messina Centro con i colleghi della stazione Giostra hanno fatto irruzione sequestrando 500 grammi della sostanza stupefacente suddivisi in barattoli di vetro due bilancini elettronici di precisione e la somma in contante di 1000 euro suddivisi in banconote da 50. Nel seminterrato i militari dell'arma hanno scovato vari basi pieni di terriccio utilizzati per la coltivazione e 5 manuali di istruzione sulla coltivazione della canape indiana. Prove evidente dell'attività illecita condotta nell'abitazione. In manette sono finiti il proprietario della casa, un pregiudicato locale di 35 anni insieme a una coppia di messinesi conviventi, lui 33enne e lei 25enne. I carabinieri hanno pure deferito in stato di libertà per favoreggiamento quattro ragazzi, c'è pure un minorenne, presenti all'interno della villa. Hanno tentato all'arrivo dei carabinieri di disfarsi di parte della droga gettandoli in bagno.